Un sabato divertente attende gli appassionati dell'ipodromo del Savio con numerosi spunti di interesse tecnici come quelli regalati dalla corsa riservata ai puliedri nella quale si registrano debutti eccellenti grazie alla presenza di un fratello d'arte come Ancelotti F, consaguineo del campione Nesta F e di un ospite di riguardo come il Giramondo Big Hero, giovanissima proposta di Holger Ellert. La serata si avvia in ordine cronologico con i sette protagonisti della prova d'approccio, un divertente miglio per cadetti alle cui redini si esibiranno i gentlemen. Le attenzioni si intensificheranno poi all'approssimarsi delle 22 quando scenderanno in pista i due anni con il sopraccitato Big Hero preceduto da voci entusiastiche avvallate da una significativa proposta di qualifica effettuata nell'incantevole scenario di Grosbois, centro alle porte di Parigi, mentre dalla Brianza Filippo Rocca porta a Savio il positivo al debutto Barile Rocca. Brigante Stecca e la già rodata Brina degli Ulivi dovrebbero inseguire per un ben remunerato piazzamento. Ieri sera intanto è andato in archivio il tredicesimo appuntamento che aveva quale clou un miglio per tre anni. La vittoria di prepotenza con un ras finale di tutto rispetto è andata ad Asia LL che ha così missato il successo del 2 luglio scorso, questa volta però migliorando il suo record, portato a 1,14 netto. Ora Asia LL può sognare in grande.